Ciao a tutti, sono Elisa Zardo. Da 30 anni ho la fortuna di vivere tra i bossi del Montello. Amo molto la natura, che parte di me. Anch'io partecipo al progetto Restarta Dolomiti con la mia opera intitolata Resilienza. In quest'opera ho riprodotto con la tecnica della fresco su plexiglass, che è una mia emozione pittorica, la corteccia dell'albero, la sua impronta digitale, le sue ferite che ho riparato con foglia oro, così come nell'antica tecnica giapponese. Vi aspettiamo tutti dalla 19 al 26 gennaio a Villa Pat. Mi raccomando, vi aspettiamo veramente, perché tutti dobbiamo contribuire in qualche modo. E questo è un ottimo modo. Grazie. Grazie.